raga oggi video interessante ciao raga in tanti mi avete chiesto sul canale dai ma si può fare un intro così allora in tanti mi avete chiesto in tanti mi avete chiesto sul canale come si può passare da bene raga dopo essermi quasi ucciso per fare la intro e straparvi così un sorriso oggi vorrei parlarvi di come ho fatto a passare da operaio ad imprenditore reputo la mia storia abbastanza interessante da condividerla con voi quindi partiamo subito ok raga ho segnato tutte le date dal 2007 fino al 2020 vediamo cosa è successo in questi anni io non ho sempre fatto l'imprenditore giustamente non è neanche facile crederci che lo faccia perché se uno guarda i miei video dice ma questo coglione qua veramente può fare l'imprenditore raga in verità si strano a credersi ma è così andiamo per punti nel 2007 andavo ancora a scuola e sono diplomato nel 2009 dato che io a scuola facevo veramente schifo ho fatto i primi tre anni mi hanno bocciato di qua mi hanno bocciato di là poi è stato promosso poi destra poi sinistra alla fine gli ultimi due anni per arrivare alla quinta e prendere effettivamente il diploma sono andato alle serali pagando chi è che pagava il diploma? i soldi eh e i soldi dove li facevo lavorando di giorno per pagarmi la scuola serale ho iniziato a lavorare nel 2008 il primo lavoro che ho fatto è stato con Ranstad una ditta qua vicino facevo i decespugliatori finito quel addentimento lì sono andato a lavorare per AdEcco che conoscete tutti sia una che l'altra sono agenzie interinari quindi tra Ranstad e AdEcco sono andato avanti un annetto un annetto e mezzo nel 2009 ho preso il diploma AdEcco mi aveva abbandonato dall'ultimo lavoro e sono andato a lavorare per un'altra ditta che vabbè adesso non dirò il nome ma inizia con la M e vabbè e qui sono stato lì anche un po' di mese anche lì e va bene in quest'ultimo lavoro facevo i fondi dei portatovaglioli quelli che ci sono al bar insomma un lavoro plastico di stamperia e assemblaggio vabbè niente di che finito questo lavoro qui succede una cosa che sconvolge un po' tutto mio padre aveva un'azienda di pulizie cioè lui faceva l'elettricista poi ha detto vabbè dai vado a fare le pulizie che mi sono rotto di lavorare e fare l'operario ha aperto la partita IVA facendo le pulizie dopo dalle pulizie è passato a fare le recinzioni e sulla scia delle recinzioni comunque della piccola impresetta che fa recinzioni comunque cantieri fuori quasi edili quindi preso il diploma e finendo l'ultimo lavoro che ho fatto ho detto vabbè vado a lavorare da lui quindi dal 2010 al 2013 lavoravo per mio padre e qui devo fare un piccolo appunto allora in questi tre anni che ho lavorato per mio padre le cose sono andate abbastanza bene all'inizio dopodiché è subentrato un po' sai quel rapporto genitori figli che non sempre va bene io sono uno che vuole fare un sacco di cose vuole fare il passo più lungo della gamba vuole puntare sempre in alto decide di fare questo lo fa se sbaglia lo rifà lo ripete migliorando insomma tutte delle situazioni che a me non mi andavano più giù perché comunque se qualcuno mi blocca io scoppio cioè non ce la faccio no e quindi ho detto vabbè all'ennesima litigata all'ennesima sfuriata chiamiamola così ho deciso ragazzi qua non va più bene io voglio farmi la mia carriera voglio crearmi qualcosa di mio non ce la faccio più stop in quel momento raga è iniziata la mia prima fase del passare da operaio ad imprenditore perché io quando lavoravo per mio padre ero operaio yeah io non faccio operaio a quel punto lì ho detto ok non voglio più fare l'operaio non voglio più lavorare sotto qualcuno in questo caso ero sotto mio padre cosa faccio? come faccio a fare l'imprenditore che non ho niente cioè io lavoravo da 3-4 anni non è che avevo via 50.000 euro per poter aprire un piccolo capannone fare tot servizi comprare tot materiale insomma cioè raga in modo totalmente casuale ho pensato sai cosa faccio? provo a vendere calcio balilla proprio così voi penserete che è uno scherzo ma è successo veramente così ok ma come fai a vendere calcio balilla calcio balilla che tu non hai neanche una tua partita iva li vendi in nero? no perché non si può le ditte che producono i calcio balilla te li venderanno a te che non hai la ditta? no e quindi? e quindi ho risolto in questo modo ho trovato due persone che mi pressassero la loro partita iva e in cambio io tutto l'utile che creavo lo dividevo esattamente in due con loro quindi a loro entrava un po' di utile senza far niente io lavoravo con partita iva la loro scambio eco loro non facevano niente gli entrava qualcosina in più ogni mese e quindi ho iniziato e qui raga arriva la parte bella ho deciso quindi di vendere calcio balilla cerco su google produttori calcio balilla mi escono un po' di produttori ne chiamo uno pronto mi puoi mandare il listino prezzi dei tuoi calcio balilla? sì chi siete voi? guarda noi siamo la xxx la partita iva di quello che me l'ha prestata ok mi manda il listino prezzi guardo prendo il prodotto che secondo me vendeva di più in base a qualche ricerca che ho fatto prima su google attenzione raga prendo l'immagine del prodotto su google metto il prodotto su subito.it creo una descrizione fatta bene prezzo un pelino più basso della concorrenza perché è il primo che vendo è il primo calcetto che vendo mai più posso venderlo al doppio o uguale un pochino meno tanto era una prova lo tengo su due giorni mi arrivano 5 mail sono rimasto così ho detto ma funziona veramente sta cosa mi chiama sto qua mi fa sì guarda sono interessato il prodotto mi piace il prezzo mi sembra abbastanza buono io abito x se me lo spedisci di qua di là su di giù porto a termine la vendita questo qua mi manda i soldi io compro il calcetto glielo faccio spedire il classico triangolo la triangolazione il triangolo no pam 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 utile 80 euro io praticamente ho creato i miei primi 80 euro di utile dopo vabbè è vero su quegli 80 euro andrebbero pagate le tasse e tutto però erano fatturati perché io ho fatto questa vendita con partita iva e da lì ho iniziato raga con quegli 80 euro io ne ho presi metà io ne ho dati al tipo l'altra metà una settimana dopo io avevo già aperto il sito con tutti i calcetti che vendeva quella ditta lì con tutti i prezzi concorrenziali ho iniziato proprio ad arrivarmi le richieste questo quell'altro su giù destra e sinistra il primo anno vabbè non è tanto ho venduto più o meno una settantina di calcio balilla voi direte ok poco però io ho iniziato con 0 euro e questa qui è stata la mia storia praticamente io da lì poi ho iniziato sono andato avanti con gli anni quindi torniamo là raga qui ho venduto il mio primo calcio balilla qua ho aperto il mio sito e piano 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 sono andato avanti raga io poi non mi sono fermato ai calcio balilla perché ho visto che la cosa funzionava e nel sito ho iniziato a mettere i ping pong i biliardi monopattini tappieti elastici casette di legno altalene insomma ho iniziato a mettere dentro una valanga di prodotti ho chiamato molti più fornitori e la cosa piano 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 si stava ingrandendo ho iniziato a capire come si facevano le pubblicità su facebook le pubblicità su google ho aperto altri due siti per iniziare a vendere anche in modo più grosso fino ad arrivare al punto che nel più o meno 2018 altra svolta nel 2018 cosa ho fatto? ho deciso di aprire la mia attività assieme a un'altra persona qua in verità ho fatto un errore però vabbè con gli errori si impara praticamente il fatturato era diventato talmente grande che a me non conveniva più dare metà utile alle altre due persone che mi prestavano la partita IVA quindi io qui ho aperto la mia partita IVA assieme a un'altra persona per dividere in due le spese quindi un SRL con socio ok è andato avanti un annetto questo esperimento qua a un certo punto ho detto vabbè ascolta socio bello ok però le cose troppo mischiate poi ho visto che non andavano bene piuttosto avrei speso un pochino di più però avrei avuto tutte le cose completamente mie la direzione era completamente mia quindi alla fine di quell'altro anno lì e quindi siamo nel 2019 ho deciso di chiudere quella società lì è rimasta tutta di quel socio là e io ho aperto la mia SRL e vi lascio qua il video di qualche mese fa dove appunto spiego che ho aperto questa nuova ditta da solo e quindi niente raga questa qua è la mia storia di come sono passato da operario imprenditore quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa cronistoria che vi ho fatto e vi ho portato sul canale perché mi interessa molto sapere anche la vostra opinione dato che vi ho raccontato comunque metà della mia vita lavorativa poi ci sarebbero altri spunti in verità che si potrebbero raccontare altri aneddoti molto molto interessanti durante comunque da qui a qui da quando ho iniziato comunque a vendere il primo calcetto a quando ho aperto la mia SRL sono successe tante cose alcune anche molto curiose da riprendere con magari un altro video vi sembrerà strano magari a chi mi vede per la prima volta che uno che fa il pirla così sul canale possa fare l'imprenditore però vi assicuro che è veramente così niente quindi raga ci vediamo la prossima volta con un nuovo video ciao a tutti ciao raga che cosa è quasi questo qua potrei affenderlo come quadretto nel mio ufficio